Musica Cari telespettatori buonasera e benvenuti in questo spazio di approfondimento che dedichiamo ai candidati a sindaco della città di Fano e ai loro programmi elettorali in particolare inerenti al mondo delle imprese e non solo. Questa sera ne parliamo insieme a Teodosio Auspici che è il candidato della sinistra per Fano. Buonasera e ne parleremo anche insieme a Fausto Baldarelli responsabile sindacale della CNA. Buonasera Fausto. Buonasera Simona. CNA che collabora con noi appunto per questi approfondimenti. Auspici iniziamo subito con una prima domanda. Come si immagina e come vorrebbe l'affano del futuro? L'affano del futuro la vorrei un affano che rialza la testa, che fondi la propria visione e trasmette una visione alla città, una visione di lungo periodo. Quello che è mancato in questi anni, questo nostro punto di vista, è proprio la programmazione. Noi partiremo proprio dalla programmazione e penso che oggi qui stiamo affrontando dei temi inerenti all'impresa. Penso che sia molto importante anche per l'impresa, che vuol dire lavoro, avere una prospettiva di lungo periodo. La difficoltà economica che stiamo affrontando e anche la crisi è molto determinata dalla precarietà, la precarietà del lavoro, ma la stessa condizione la stanno vivendo le imprese. Non avendo un respiro lungo, ristagna il tutto, non si riesce ad investire, ad avere una prospettiva e quindi secondo me quello che noi vogliamo portare proprio a Fano è una visione, una visione nuova che mette al centro questi temi. E sono ben contento oggi di essere qui e di affrontare la questione proprio anche con CNA, che ringrazio. Grazie, grazie a lei. Fausto, lascio a lei la parola invece per la prossima domanda. A proposito di impresa, per tanti anni il mondo della sinistra che tu rappresenti si è confrontato col mondo del sindacato e ha considerato poco un valore aggiunto il mondo dell'impresa. Siccome la provincia di Pesaro e la città di Fano rappresentano una grossa percentuale di sistema di micro imprese, quindi come ti rappresenti tu al mondo dell'impresa? Vengo dalla sinistra ma questa domanda mi cade anche un po' a pennello perché in realtà io ho sempre lavorato negli ultimi vent'anni in aziende private con ruoli di responsabilità, di direzione generale. Ed è da tre anni che ho un cantiere nautico, quindi sono un imprenditore come uomo di sinistra, in realtà però sono un imprenditore. Quindi conosco anche abbastanza le problematiche e penso che la sinistra debba un attimino cambiare approccio verso determinati problemi. Ma io dico che forse sono anche dei stereotipi che bisogna un po' abbattere, anche troppo sopravvalutati. La sinistra ha sempre guardato con interesse e comunque per quanto mi riguarda guardo con assoluto interesse alle aziende perché poi sono le aziende che danno lavoro, che producono gettito fiscale, diciamo anche per gli enti pubblici che possono a quel punto anche avere i fonti o i fondi per poter intervenire. Rispetto proprio come interventi da poter fare è ovvio che la politica nazionale è quella che condiziona maggiormente, anche perché i due atti principali che può portare avanti un'amministrazione sono il piano regolatore e il bilancio. Le manovre di bilancio non sono poi così facili da mettere a attuare perché sappiamo la ristrettezza dei fondi. Guardando anche in questi anni il bilancio abbiamo visto pochi fondi messi a disposizione per le imprese. dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista invece ci dovrà essere un'attenzione maggiore. Che problemi hanno le imprese quando entrano sul mercato? Cioè chiaramente la fase di start up è assolutamente da aiutare e come dicevo prima, quindi proprio anche l'indecisione, l'insicurezza bisogna farla, come dire, far passare quel muro e quindi noi dovremmo intervenire mettendo al bilancio dei fondi preposti, dedicati proprio alle start up, anche cercando di dare dei risparmi fiscali nei primi anni alle nuove aziende, aziende anche condotte da donne per dire anche per, come dire, le pari opportunità, incentivare perché poi vediamo che anche il mondo femminile sta prendendo piede in questo periodo e di questo noi siamo molto contenti. Penso che determinante è anche la questione del credito. Io leggendo anche quello che proponete anche voi, per me centrale sicuramente è anche prevedere un fondo per andare a finanziare i cofidi, perché da imprenditore dico che oggi il problema è proprio la necessità di reperire credito, perché la sfiducia ce l'ha l'imprenditore, ma ce l'ha anche la banca e quindi bisogna un po' mettersi tutti in gioco. Secondo me quello è un modo per il pubblico di intervenire effettivamente anche nella vita dell'impresa. Teodosio c'è una domanda che le pone una persona, una donna che lavora proprio nel settore del commercio, ascoltiamola. C'è una forte crisi nel commercio e molti negozi stanno chiudendo, cosa pensate di fare? Ecco, Spici che cosa le risponde? Ma è un problema assolutamente sentito e anche molto evidente. Io sulla questione ho fatto una passeggiata come tanti fanesi per il corso, faccio un esempio, si notano tantissime vetrine libere. Beh però mi dispiace ma appunto devo ritornare a quello che accennavo prima, cioè la mancanza di programmazione, il fatto di non aver fatto un piano regolatore in questi ultimi 5 anni che è una grande critica che si fa anche a questa attuale amministrazione. Noi abbiamo il piano regolatore del 2009 che sappiamo, abbiamo giudicato, a quella volta eravamo all'opposizione, come un piano regolatore sovradimensionato soprattutto per il commercio e la grande distribuzione. Bene, bisognava intervenire perché la grande distribuzione, gioco forza, sommata anche con il commercio online, è la causa della chiusura dei negozi. Un'altra cosa però mi sta a cuore ricordare che la chiusura dei negozi è anche sia per la start-up, che dicevamo bisogna assolutamente incentivarlo, ma anche per gli affitti. Beh, il comune bisogna che si fa carico di fare una cabina di regia, di avere il polso della situazione, mettere intorno a tavolo chi ha delle proprietà, che ovviamente ci sono anche proprietà comunali, ma la stragrande maggioranza sono private, però ecco io ho esperienze di commercianti che magari lavorano tanto e gli viene chiesto tanto e io dico che è anche un po' scorretto. Poi altri commercianti che invece insomma alzano le mani e quindi si ritirano. Bene, non si può lasciare tutto al mercato, bisogna prendersi le responsabilità, io questa cabina di regia la trovo assolutamente necessaria. Ma ritornando anche poi all'artigianato, questo vale anche all'artigianato, quindi collegato sempre alla programmazione del territorio, anche alla necessità di ricostituire dei piani di insediamento produttivo. Oggi oramai i grandi stabilimenti sono di difficile piazzamento, come dire, nel mercato, però piccoli lotti invece un po' di richiesta c'è. Mi sono confrontato anche con dei colleghi imprenditori del settore e questo lo dicono. Chiaro, siamo in un momento difficile, però ecco, anche dare un impulso con un intervento pubblico, un insediamento produttivo, quindi dove il costo del terreno messo dal comune abbassa i costi, cioè è un incentivo. Io penso che bisogna ricominciare da qua. E ci ha raggiunti Daniele Gaudenzi, presidente della CNA di Fano. Buonasera Gaudenzi. Salve a tutti. Anche lei ha una domanda da rivolgere al candidato sindaco. Sì, volevo dire che un tema molto importante, caro a noi artigiani, è quello della burocrazia. Non parliamo di quella nazionale che a volte sappiamo che è allucinante. Non pensa che sia il caso di rafforzare gli sportelli unici a livello locale? Questa è una domanda che la risposta è positiva assolutamente. È chiaro che sull'intervento della burocrazia, io leggevo anche la vostra pietraforma, il numero di pratiche a seconda delle attività, so benissimo, lo sanno anche tutti i cittadini purtroppo che ci si confrontano chi più chi meno, sono tante le pratiche. Quelle intervenire direttamente con la legge nazionale è ovvio che il comune fa difficoltà, però gli sportelli unici o per l'attività produttiva o per l'attività edilizia che poi sono anche fondamentali come fonti di entrate per il comune. Quindi un'attività, un'energia, una ripresa anche da quel punto di vista fa bene e anche per la comunità ci deve assolutamente essere. In questi periodi sicuramente ribadisco ci si è scontrati con la crisi, però era in quel momento che gli sportelli unici dovevano intervenire in maggior modo, anzi affanno ancora di più perché proprio non c'era nemmeno un piano regolatore adeguato. Quindi bisognava e bisognerà intervenire assolutamente dando anche delle corsie preferenziali, io le definisco così, quando ci sono delle iniziative da portare avanti, cioè il dialogo deve essere assolutamente continuo e costante. Ecco, poi fare false promesse che da 70 pratiche ne facciamo 50, io non me la sento di dire anche perché non è nella facoltà del sindaco, però sappiamo anche che la velocità di risposta è fondamentale e quello tra l'altro lo prevede anche la legge proprio per gli sportelli unici. Beh, lì bisogna andare a monitorare e monitorare vuol dire anche potenziare gli uffici e metterli in condizioni di dare delle risposte pronte. Auspicio nei programmi invece della sinistra che lei rappresenta, il lavoro, la disoccupazione, l'eliminazione delle disuguaglianze immagino siano ai primi posti, ecco ma lei che cosa farebbe proprio a livello locale per attradurre in pratica questi obiettivi? Beh, per quanto riguarda le disuguaglianze, cioè io e noi siamo assolutamente convinti che la disuguaglianza e anche la stessa inclusione, un tema carissimo in questo momento, ecco va difeso va difeso e gli si deve dare una risposta partendo proprio dal lavoro, perché il lavoro crea coesione sociale, rispetto e anche tolleranza io dico, no? Perché poi la guerra tra i poveri penso che non faccia bene a nessuno, ma in questi momenti assistiamo anche alla guerra tra i poveri. Quindi assolutamente la nostra visione è proprio di creare le condizioni di una città in salute e che metta insomma al primo posto quindi i temi che, come dire, mi dà un assist in questa domanda. Partiamo dal lavoro, quindi con la programmazione, dobbiamo dare un'idea di futuro, ad esempio facciamo sicuramente un tessuto importante tra le aziende, sono le aziende edile che sono un numero rilevante anche nella nostra provincia, nel nostro territorio e quindi che sono profondamente in crisi, anche qui la programmazione, l'intervento e anche un piano di investimenti del comune deve andare in quella direzione, in direzione di agevolare le aziende locali che dà una ricaduta nel territorio anche in termini di occupazione e ci sono anche i modi, anche quando si fanno i bandi, di insomma dare una, anche qui il termine che ho usato prima, una corsia preferenziale. Per quanto riguarda poi, come dire, mi ripeto, abbiamo nel nostro pacchetto programmatico degli incentivi proprio anche per detassare, mi riferisco alle tasse comunali che possono essere l'IMU piuttosto che la TOSAP o perché poi sugli impianti produttivi in realtà il 70% anche dell'IMU va allo Stato, quindi anche l'intervento che può fare il comune è relativo però alle nuove aziende e alle nuove imprese. Poi un altro aspetto è un aspetto culturale, cioè perché poi le battaglie si vincono prima, almeno dal nostro punto di vista culturalmente, quindi Fano deve dare una risposta anche dal punto di vista culturale, ma io sto parlando di vista culturale dell'azienda, quindi cosa bisogna fare? Bisogna ritirare fuori la necessità di creare, tutti parliamo di innovazione, programmazione, innovazione, sostenibilità. Bene, noi nel nostro programma inseriamo un polo tecnico scientifico che riprenda le collaborazioni con l'università, con la biologia marina, quindi l'università, abbiamo delle caratterizzazioni del nostro territorio che possono essere sia l'agricoltura che anche la marineria, anche l'acquacultura, non se ne è mai parlato, invece secondo me è anche una risposta alla crisi della pesca, alla diminuzione, cioè noi dobbiamo essere capaci di trasmettere un'idea alternativa di città dove si guarda al lavoro in primis, questo mi trovo assolutamente a disposizione. E adesso invece mandiamo il secondo contributo e ascoltiamo una imprenditrice. Desidero chiedere qual è la vostra ricetta per incentivare e sviluppare lavoro e occupazione a Fano. Teodosio in parte ha già risposto, ha qualcosa da aggiungere? Ma io passerei diciamo a degli esempi concreti, quelli che noi abbiamo nel nostro programma. Io parlavo prima di un piano di investimenti, anche pubblico, cioè essere interpreti in prima battuta. Facciamo due o tre esempi, noi nel nostro programma abbiamo inserito come dire come visione la necessità di, insieme a questo polo tecnico, scientifico, università, cioè fare un po' gruppo, fare un po' quadrato, da inserirci anche un polo logistico che vada dallo zuccherificio, perché poi lì abbiamo un problema, in quell'area, che vada dallo zuccherificio, aeroporto, zona industriale, e perché noi dobbiamo intercettare il flusso di merci, di persone di merci e quindi anche con un intervento ad hoc per quell'area in piano regolatore, in variante, anche ricettivo, perché dove c'è lavoro c'è anche gente che gira e quindi questo è un primo esempio. Un secondo esempio, abbiamo lanciato anche nelle settimane passate un grande intervento a Chiaruccia, visto che per noi siamo contrari a metterci, come dire, la clinica privata, invece una città dello sport con un nuovo stadio, mettendo a disposizione il terreno, un diritto di superficie, ma non è solo stadio, palestra, centro e quindi anche lì saranno tante aziende del posto. Poi un altro tema importante è anche quello della, io la chiamo trasformazione urbana, trasformazione urbana che deve andare ad interessare quelli che sono il riuso dei beni pubblici che in questo momento la città li vede lì fermi. Faccio tre esempi, il Mancini una volta realizzato lo stadio viene trasformato in un parco urbano collegato alla città, venendo su abbiamo il Foro Boario che se è un parcheggio bisogna renderlo tale anche con un sotterraneo, un multipiano e anche lì un intervento, ex colonna Enam, il convito dell'Inps per carità, ma che deve ritornare alla sua destinazione turistica fino ad arrivare alla caserma che ovviamente la vediamo come un centro di servizi comunali e non solo. Tutto questo come si può fare? Lo si può fare trasformando la città con un grande piano e dobbiamo ricordare, visto che sono stato presidente di Aset e ho dato il mio contributo anche alla fusione proprio per questo, che nell'oggetto di Aset abbiamo la trasformazione urbana, quindi noi potremmo anche intervenire direttamente in questo modo. E ora diamo il benvenuto a Claudio Salvi che è il responsabile dell'ufficio stampa della CNA. Buonasera e benvenuto nei nostri studi. Buonasera, buonasera a voi. Prego, le lascio la parola. Sì, una domanda che è molto cara alle imprese, ecco, è quello delle infrastrutture delle opere pubbliche. Per le imprese, come lo sappiamo, è molto importante. Ecco, che cosa intendete fare per Fano? Allora, la direttrice, diciamo, centrale è chiaro, in ritardo in questi anni è la Fano Grossetto, questo è determinante. La Quadrilatero ci ha fatto una concorrenza, tra virgolette, sleale, dico sleale per modo di dire, però ha, come dire, incentivato lo spostamento di proprio flussi di persone, in questo caso turistico. Quindi è chiaro che nella nostra agenda dobbiamo intervenire sul nazionale, sugli enti, l'ANAS, per portare avanti questa infrastruttura. A livello locale io dico assolutamente, e noi siamo veramente molto convinti, che una infrastruttura fondamentale sarà, uno, la famosa strada delle barche, che ancora non si è fatta, e quindi strada delle barche, porto. Sul porto, anche se sono del settore della cantieristica, come ho detto prima, vedo un acronistico fare un cappannone 16 metri davanti all'acqua, ma penso che ci voglia di servizi per rilanciare il porto turistico. E fondamentale in tutto questo è la riappertura della ferrovia Fanno Urbino, proprio perché oltre il flusso di persone è proprio come dire, partiamo da Fanno, dalla classicità, dalla romanità e andiamo nel rinascimento, ma è un grandissimo volano perché noi dobbiamo far fermare la gente a Fanno. Come la fermiamo? La fermiamo proprio anche con questa riapertura e forse qualche freccia rossa, qualche freccia bianca si fermerà, perché non è possibile che la classicità delle barche non abbia anche un collegamento con le grandi linee ferroviarie. E come anche riporta uno dei punti della piattaforma della CNA ai candidati a sindaco, sono importanti anche le collaborazioni tra i vari comuni, quindi amministrazioni locali, territori, importanti anche per intercettare risorse comunitarie. In breve che cosa mi risponde? Che cosa farete in tal qualcosa? In breve sicuramente va incentivato uno sportello per i fondi europei e non è più pensabile intercettare queste importanti somme a disposizione, poi sappiamo un po' tutti che il problema è che non arrivano i progetti per intercettarlo e non può essere solo Fanno, bisogna che i campanilismi vengano messi da parte, ma in tante cose ormai bisogna ragionare di territorio, di territorio quindi diamogli una declinazione del tipo di aria vasta e con l'interazione Fanno può essere la capofila della Valle del Metauro, ma anche con peso ci mancherebbe altro, due città così grandi che ormai si toccano devono ragionare su determinati progetti infrastrutturali e quant'altro all'unisono e devono trovare il bene. Però un po' deve anche rimanere a Fanno perché in quest'ultimo periodo è troppo verso peso. Grazie a Teodosio Spici della sinistra per Fanno, candidato a sindaco a tutta la CNA, in particolar modo al nostro ospite Claudio Salvi, responsabile dell'ufficio stampa. Grazie a tutti voi. Buonasera. Grazie, noi invece ci rivediamo al prossimo approfondimento dedicato appunto ai candidati a sindaco con questa collaborazione che prosegue con la CNA. Arrivederci. Grazie a tutti.